Buongiorno su canale 81 Lazio al primo appuntamento della giornata con le principali notizie regionali. Iniziamo da Roma, c'è stato un tentato furto a Talenti dove una coppia di 50 anni è stata rapinata in casa da una banda di ladri, usata anche violenza tanto che la moglie è stata costretta a curarsi in ospedale perché colpita con un bastone e ha riportato ferite guaribili in 30 giorni. I malviventi sono poi scappati. Blatte e sporcizia, siamo sempre a Roma, in un bar tavola calda e quanto ha determinato la chiusura dell'attività di somministrazione nella zona di San Giovanni sono stati gli agenti del primo gruppo centro della polizia locale di Roma capitale nell'ambito delle verifiche presso esercizi commerciali e locali pubblici a scoprire l'esistenza di un magazzino contenente generi alimentari in cui sono state rinvenute proprio le blatte oltre alla presenza di palesi carenze igienico-sanitarie. Rifiuti in fiamme in una discarica abusiva, due incendi sono divampati nel volgere di 12 ore poco distante dal campo nomadi di via Casal Lombroso. Il primo rogo è divampato giovedì sera a partire dalle 20, il secondo invece ieri mattina e sempre nella stessa discarica. Restano da accertare le cause per entrambi i roghi. È partito il progetto che consentirà al quartiere Giardino di Roma di avere un agognato collegamento ferroviario. L'intervento era già stato approvato in una conferenza di eseguirsi nel lontano 2013 senza però che il via libera avesse portato all'avvio dei lavori. L'opera adesso è tra quelle inserite nel DPCM sul Giubileo. È stata al centro di una riunione organizzata nella sala municipale di Largo Capelvenere ad Acilia. Nel comune di Terracina partono invece i lavori di rifacimento di via del Rio nell'ambito del progetto di riqualificazione di Borgopio finanziati con i fondi del PNRR. L'amministrazione annuncia che con l'apertura del cantiere sono partite le fasi di scavo e rimozione dell'asfalto nel primo tratto della strada adiacente alla centralissima via Roma. Questa è la notizia che chiude questa edizione del telegiornale. Appuntamento alle prossime edizioni.